morta franca bettoia moglie di ugo tognazzi morta franca bettoia uno sguardo sulla vita della moglie di un genere cinematografico franca bettoia moglie del famoso attore regista italiano ugo tognazzi ha occupato un posto distintivo nella scena culturale italiana grazie alla sua lunga partnership con lui la loro relazione durata molti anni è stata caratterizzata da un forte rispetto reciproco e da un profondo legame emotivo che ha influenzato sia la vita personale che le carriere professionali franca nata come figlia illegittima in una famiglia borghese contribuì durante il suo matrimonio con tognazzi alla stabilità della sua vita si dice che gli sia stata accanto nei momenti difficili e che lo abbia sostenuto nella sua carriera ciò si manifestò tra l'altro nelle molte ore trascorse insieme durante le quali tognazzi lavorava i suoi progetti cinematografici la sua presenza e supporto furono considerati decisivi per il suo successo tognazzi è stata una delle figure centrali del cinema italiano negli anni 60 e 70 famoso per i suoi ruoli in commedie e drammi che spesso trattavano le assurdità della vita durante la sua carriera ha partecipato a numerose produzioni e bettoia è stata spesso una forza silenziosa dietro le quinte che incoraggiava e motivava l'attore grazie a questo supporto ha contribuito a promuovere la sua creazione artistica che si riflette in molti dei suoi film ecco la traduzione in italiano i due ebbero due figli che seguirono le orme del padre e lavorarono nel settore della recitazione pettoia non venne vista solo come madre ma anche come una figura importante nella vita dei suoi figli che trasmise loro valori e buone maniere si dice che si preoccupasse sempre che i suoi figli ricevessero una buona educazione e sviluppassero un senso per l'arte e la cultura l'approccio di franca bettoia alla sua vita e al suo ruolo di moglie e madre dimostra quanto fosse importante nella bottega creativa di suo marito il suo impegno e la sua dedizione alla famiglia e alla creazione artistica di ugo tognazzi non possono essere sottovalutati e rappresentano una faccia interessante della sua personalità che spesso rimane nell'ombra rispetto ai riflettori della celebrità di suo marito alla fine della sua vita franca bettoia rimane nella memoria come una figura il cui influenza e contributo alla vita del famoso attore e oltre non dovrebbero essere trascurati autore Anita Fache sabato 14 settembre 2024